L'odore è bellissimo, se pensi che delle volte ci sono terra bruciata invece che è bello Ma qui che viene intassiato è proprio l'obiettivo che è stato oggi, quest'anno è stato rivolto Allora quest'anno è stato rivolto, qua poi c'è da dire che c'è il mare che è, ho capito Guarda come tante si può essere rivolto nel fiume, ho capito No perché non me lo ricordavo così bene, siamo venuti un paio di volte nel giro degli anni Anche in questo periodo ci sono state pure il primavere Abbiamo avuto un mangio tra virgolette strano perché abbiamo avuto pure la grande Sì, vero?